Che cosa si sa di lui? Nato a Reggio Emilia, figlio del boia di Modena, fratello del boia del Ducato di Parma, si dice che abitò in via Bonelli 2 a Torino, che la moglie viveva da reclusa, che casa sua fosse così pulita da potersi specchiare, e che la comunità non voleva averci niente a che fare, e che quando proprio non poteva evitarlo, metteva in atto tutta una serie di simbologie, come quella legata al pane capovolto, che diede addirittura origine al pancarre.